Speriamo, speriamo bene, speriamo che questo sistema ci dia delle soluzioni, le liste d'attesa sono sempre stato il tallone d'Achille della nostra sanità, perché la gente va a prenotare, ma se ne parla l'anno prossimo, verso il mero giugno, poi come un anno, e già, lei è fortunato, perché è così? Io non vi dico una settimana, ma un mese, mi sembra un tempo abbastanza giusto, poi ci sono patologie che non possono aspettare tanto, quindi vediamo cosa riesce a fare Schifani, in verità, vi ho detto, in certe cose mi fa simpatia, in certe altre mi rendo conto che anche lui fa parte del grande gioco. Ed è come la questione dell'aeroporto di Catania. Sono passati 15 giorni, non mi ricordo più manco io quanti giorni sono passati, ma in verità non abbiamo grandi risultati, ma non tanto sul fatto di rientrare nella normalità, che alla fine ci arriveremo. La SAC oggi ci comunica che avendo messo le tensostrutture, grandi tensostrutture, si è praticamente arrivati al 50% della operatività precedente. Cioè se prima partivano 20 voli al giorno, ora ne partono 10. Perché? Perché la situazione è quella che è. Ora io dico, si dimostra una completa inefficienza, ma nella programmazione, non nella gestione dell'emergenza, perché l'emergenza, purtroppo l'emergenza la stanno facendo, ma non ci deve essere un piano B? Non ci deve essere un modo per dire se non funziona, noi siamo in grado di fare questo? Questo naturalmente non c'è, tant'è vero che circola sul web una petizione, una petizione, andate dalla cercana, la troverete senza dubbio, una petizione nella quale si chiedono le firme alla petizione, si chiedono le dimissioni del Consiglio di Amministrazione della SAC. Guardate che questa petizione ha raggiunto 10.000 firme nel giro di 5 ore e siccome l'obiettivo è 15.000 firme, stasera già sarà raggiunto sicuramente. Ora, di fronte a 15.000 firme che chiedono la dimissione alla SAC, un poco di dignità direbbe che ci dimettiamo. Ma siamo allo stesso punto della Sant'Anché. La Sant'Anché si è dimostrato che ha gestito malamente le sue aziende, che se l'avesse fatto un cittadino normale sarebbe già gli arresti domiciliari. La Sant'Anché non solo ha tanti debiti, non paga le multe, non paga il TFR, stratta male i suoi dipendenti, ma il ministro si incavola pure e i senatori l'hanno difesa. È un paese strano. Succederà lo stesso a Catania, nonostante 15.000 firme, nonostante le colpe che stanno per essere certamente nascoste, non cambierà nulla. Perché non è questione di mafia, non è la mafia. Questo è il potere. Il potere che viene chiaramente condiviso da quelli che hanno il potere e si difendono fra di loro perché come si dice cane non mangia cane, quindi nessuno che ha spartuto il potere, che ha avuto il potere non andrà mai a colpire qualcuno al quale ha dato il potere. Pensate, Schifani ha il suo c'è i suoi rappresentanti nella SAC, che fa? Li fa dimettere? Ma neanche per sogno. Questa è una delle grandi vergogne di questo paese. La stessa cosa che dobbiamo dire, tornando un attimo su Comiso, perché Comiso, l'ho già detto ieri, è una struttura che sta dando grandi soddisfazioni con tutti i limiti, però fa capire che i suoi 20 voli al giorno li può sopportare. Voglio vedere se Catania questo lo capirà e farà in modo che qualche compagnia giocoforza si sposti verso Comiso, quelle che hanno le destinazioni che comunque la gente andrebbe ovunque per non fare 5-6 scali. Se devi andare, io ripeto sempre, se devi andare all'Urds, c'è un volo diretto. Allora, se tu non vai a Catania o a Comiso, per prendere questo volo della Wizzero, della Volotea, non mi ricordo, c'è mai a Comiso, ma ci vado lo stesso, anche perché il volo per l'Urds non è un volo riservato a Catania, è un volo per tutta la Sicilia e tutti verrebbero su Comiso e così altre destinazioni. Questo però a Catania non lo possono capire, perché non ce l'hanno questa testa, loro devono sempre incassare ogni passeggero che parte da Comiso e un passeggero perso per Catania, quindi introiti in meno, lo capiscono tutti. Quindi speriamo che Comiso riesca in qualche modo a riprendersi dopo aver dimostrato, con grande difficoltà all'inizio, con molta malafiura, che al regime riesce a fare il suo lavoro. E parliamo di un'altra infrastruttura che ci preoccupa fortemente, parliamo della Siracusa-Gela, il tratto che va da Ispiga a Modica. Allora abbiamo ricevuto nel tempo comunicati, prima alla fine dell'anno scorso, anzi prima a metà del 2022, poi alla fine del 2022, poi ai primi del 2023, poi a marzo, poi aprile, poi a giugno, a fine luglio ci aveva detto l'Onorevole Di Pasquale. Ora a fine luglio non c'è, hanno detto forze a Ferragosto, non abbiamo nessuna notizia, ci è andata l'Onorevole Campo a fare un sopralluogo. Bene, l'Onorevole Campo dice, ma a quale fine luglio se ne parlerà come minimo in autunno. Perché? Perché quello che ha detto Aricò, l'assessore Aricò, che tutto era pronto, è falso e quindi Aricò è colpevole di illudere la gente. Ci hanno preso in giro, dice l'Onorevole Campo. Io sono passato oggi, proprio stamattina, dall'incrocio e ho visto che tutta la segnaletica è fatta, non lavora nessuno, la strada sembra già pronta e lo dico, ma per quale motivo? Dice la Campo, no, ci sono ancora lavori da fare. Quello che invece aveva detto il segretario della CGL, Giuseppe Scifo, aveva detto no, l'autostrada è pronta, ma non la consegnano perché non gli hanno dato i soldi. Questo sarebbe un reato, sarebbe una vergogna, cioè è un ricatto e poi non si può fare, la legge non dice questo, non lo puoi fare, non puoi dire se non mi do i soldi non ti do la roba. Non è una cosa che si può fare, si parla di lavori pubblici, quindi non è il bottegaio che ti dice se non mi dai i soldi, si parla di lavori pubblici, fatti con i soldi pubblici, quindi è chiaro che se tu hai fatto il lavoro lo devi consegnare. Abbiamo chiamato questo ingegnere mozzicato, che però non ci ha risposto, domani lo faremo per sapere se effettivamente la situazione è questa, cioè l'opera è pronta e non ce la vogliono consegnare, oppure come dice la Campo ci vogliono ancora 3-4 mesi, anche in questo caso saremmo incavolati neri, insomma ci stanno prendendo per i fondelli, non è una bella cosa. A proposito di grandi infrastrutture parliamo del ponte sullo stretto, che è una cosa che naturalmente ci interessa molto e che abbiamo la possibilità di discutere la vicenda con l'onorevole Francesco Gallo del Movimento Sud di Chiamanord che domani parteciperà ad un incontro pubblico preparato e organizzato a Fiume di Risi nella zona di Taormina dal Movimento si parlerà proprio di bonte. Allora sentiamo cosa dice l'onorevole Gallo, la domanda è questa, di che cosa si parlerà domani. Vediamo.